Per quanto riguarda la posizione di Ronaldo è una posizione che tiene in campo con le due punte, lui vicino a Morata come in questa partita, leggermente defilato rispetto a Morata, però si è mosso bene nelle giuste posizioni, quando hanno dialogato l'hanno fatto bene, mentre quando è entrato poi di bala ha fatto un po' più il centroavanti, quindi sono due posizioni leggermente diverse, però si è mosso bene. No, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro una squadra che gioca bene il calcio, siamo andati in vantaggio presto e poi ci siamo un po' rilassati pensando che fosse una partita facile, invece era ancora da chiudere, abbiamo rischiato qualcosa di troppo durante la partita, poi il secondo tempo è andato un po' meglio. Ma non è entrato Coluseschi perché avevamo fatto già dei cambi, ha bisogno anche di rifiatare, viene da tante partite giocate sia con la Juventus che con la Nazionale, quindi è un periodo che ha bisogno di riposare, volevamo metterlo dentro, poi ci sono stati qualche problemino fisico di altri, allora abbiamo preferito non farlo entrare, però è un giocatore forte che sta giocando, deve migliorare sicuramente perché giocare nella Juve è diverso che giocare in altre squadre, è giovane e quindi il percorso è questo e lo sta facendo bene. Come a Spezia, anche loro oggi hanno giocato contro attaccanti, quindi si liberava di più il vertice basso che era Arthur, quindi poteva giocare più liberamente in quella posizione rispetto magari a due mediani in linea. Purtroppo non è mai stato bene durante la partita e tante volte si abbassava troppo e non aveva la forza poi di rialzarsi, però è una soluzione perché quando abbiamo l'opportunità di trovare un nostro giocatore davanti alla difesa, l'altro si muove di conseguenza cercando uno spazio un po' più avanzato. Grazie a tutti.